Dopo la morte di Pavel, rimasi solo. Dovevo raggiungere la stazione nera, in qualche modo. Ullman mi aspettava per portarmi alla polis. Umano! Ma com'è? Vieni qui, presto! È raro vedere un uomo in quelle gallerie. Parla con il Capitano. No. Qui siamo nella mezza fino a Corpo. E ora lo sai anche tu. Quanti? Hai visto? Dieci? Venti? No, non dire niente. Vai a parlare al Capitano. Non so cosa diavolo tu ci faccia. Non so cosa diavolo qui, ma un uomo armato in più fa sempre comodo. Il passaggio per la stazione è chiuso fino al termine dell'evacuazione. Preparati a combattere. Prendi tutte le munizioni di scorta rimaste nel nascondiglio. Ora sei uno di noi. La nostra squadra si chiama Figli del Sottosuolo. Amici, dobbiamo trattare le leggi del cuore per quanto meno tempo. Non voglio mettere il cuore per andare all'alimento veloce, ma pensate ai vostri cari alla stazione. Le bestie che riusciranno a superare la nostra linea non avranno pietà di loro. Quindi pronti a sparare e facciamogli vedere come si battono i veri uomini? Lo senti? Ora sono vicino. Cazzo! Lucha più lucha! I piedi! State tutti bene? Uomo a terra! Bella, Gionella. Accidenti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.